Grazie a tutti. I deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della giunta per il regolamento del 4 novembre 2020. Invito i presentatori a illustrare l'interrogazione 506368 Costanzo. Prego, nolevole Costanzo. Grazie Presidente. Grazie a tutti. 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 misure sembrano le solite soluzioni che vengono riproposte per la qualunque crisi. In realtà in questo frangente, in questo contesto sappiamo che la deindustrializzazione, la delocalizzazione di alcune multinazionali a cui si aggiunge poi questo sblocco dei licenziamenti comporta in effetti un mix letale per il nostro territorio, in questo caso sulla questione caffare piemontese ma in generale per l'intero paese. In più non si è affrontato, visto dalla risposta, il tema della pratica diffusa di queste commissioni di cui parlavo prima quando presentavo l'interrogazione. Queste commissioni in realtà spostano legalmente tra l'altro le risorse verso la casa madre, in questo caso verso la linde, ma non risultano dei profitti tassabili in Italia. Terzo punto, nella ristrutturazione aziendale non si parla di organizzazione del marketing, perché la contrazione delle vendite è stata temporanea, legata appunto alla pandemia da Covid, ma non va ad intaccare le abitudini nel lungo periodo del consumatore in modo definitivo e quindi non si capisce perché l'azienda abbia lanciato questa misura dei licenziamenti che sono misure strutturali, come gli esuberi dei licenziamenti. Il risultato è quindi che si scrive ristrutturazione aziendale, ma in realtà si legge già 2.8 avvelenato al gusto di licenziamento. Per questo noi sosteniamo che sia necessario bloccare questo sblocco dei licenziamenti e soprattutto adottare misure che possano rispondere alla riduzione e alla contrazione temporanea, quella che è in effetti dei volumi delle vendite, come l'isopensione, come i contratti di solidarietà, ma non utilizzarli come pretesti per licenziare con la condivenza tra l'altro del governo e di questo governo Draghi, che con il caso della Caffarel offre a sua volta ancora un gianduiotto al gusto di licenziamento. Grazie. Grazie onorevole Costanzo. Passiamo adesso all'interrogazione 506369 a Mitrano. Invito l'onorevole a Mitrano, ah mi scusi, a presentare l'interrogazione. Grazie presidente, sarò brevissimo. La mia interrogazione è sul campo dell'outplacement. Noi sappiamo che moltissimi lavoratori, sia a causa della pandemia, ma anche diciamo indipendentemente da essa, purtroppo con l'aumento delle crisi aziendali, rischiano ovviamente di perdere il loro posto di lavoro. In altri paesi dell'Unione Europea, in Francia, in Spagna, anche in altri stati, il sistema dell'outplacement è addirittura reso obbligatorio, proprio per cercare di riconvertire alcuni lavoratori dai settori in crisi verso settori che invece sono in una fase di sviluppo, in una fase di crescita. Quindi la mia interrogazione al Ministero, ringrazio già la sottosegretaria Nisini per la risposta e se non si ritengo ovviamente opportuno, immaginare anche nel nostro paese delle misure per cercare di riconvertire i lavoratori verso nuovi mercati, diciamo che sicuramente hanno un sistema in crescita e quindi dare competenze, formazioni e riqualificazione del personale. Grazie. Grazie, onorevole Amitrano. Prego, sono sottosegretario. Grazie Presidente e grazie all'onorevole interrogante. Allora, nell'ambito della crisi pandemica il Governo ha attivato strumenti eccezionali per estendere a tutti i lavoratori gli strumenti di protezione del reddito in costanza di rapporto di lavoro, introducendo in via eccezionale un corrispondente blocco dei licenziamenti. Con la prospettiva di normalizzazione della situazione sanitaria e il ritorno all'ordinare funzionamento dell'economia, si prevede altresì un riassestamento del sistema produttivo, caratterizzato da un'accelerazione di processi di cambiamento strutturale già in corso. In tale contesto, le politiche attive del lavoro acquisiranno una rilevanza fondamentale per accompagnare il cambiamento, evitando che l'impatto della crisi diventi di lungo periodo e facilitando nel rapido ricollocamento sul mercato del lavoro dei lavoratori, in particolare di quelli più fragili e con basse competenze. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia delle politiche del lavoro si articola principalmente nel programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori strategico ai fini dell'azione di riforma accompagnato da un piano strategico nazionale sulle nuove competenze, che opera in una logica integrata in sinergia con il piano straordinario di rafforzamento dei centri per l'impiego. È essenziale che sia posta al centro dell'azione dei centri per l'impiego la personalizzazione degli interventi, che si avvalga della cooperazione tra sistema pubblico e quello privato al fine di migliorare le opportunità occupazionali. In questa cornice complessiva il programma GOL, anche a seguito dell'interlocuzione con la Commissione europea, intende definire i livelli essenziali delle prestazioni degli standard di servizio dei centri per l'impiego, fissare un target per cui almeno per il 25% dei beneficiari del programma sia prevista propria attività di formazione con un focus particolare sulle competenze digitali e con priorità per i più vulnerabili. Tra tali obiettivi vi è compreso quello di fissare nuovi meccanismi che rafforzino e rendano strutturale la cooperazione tra sistema pubblico e sistema privato, in particolare con riferimento all'identificazione dei fabbisogni di competenze e alla disponibilità di offerte di lavoro. Quanto al piano nuove competenze, l'identificazione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e l'orientamento degli interventi di formazione e di riqualificazione dovrà avvenire proprio sulla base della collaborazione tra sistema pubblico e sistema privato. Pertanto posso assicurare che il Governo, seguendo le indicazioni dell'Agenda europea che per le competenze del luglio 2020 intende sviluppare dei partenariati pubblico e privati che promuovono una rete di istituzioni, imprese e operatori delle filiere dell'istruzione, della formazione e del lavoro. Solo la sinergia tra gli operatori e le strutture esistenti consentirà di agire in modo organico per colmare il divario di competenze necessarie e soddisfare l'effettivo bisogno occupazionale delle aziende, per rafforzare la resilienza del tessuto economico e poter cogliere le sfide dell'innovazione, della transizione digitale e della transizione green. Grazie alla sottosegretaria. Prego, non levo la Mitrano per non più di due minuti. Grazie Presidente, sarò anche più breve in modo che guadagniamo tempo tutti. Mi fa molto piacere apprendere che c'è un'assicurazione da parte del Governo che si voglia seguire l'idea di un partenariato pubblico-privato per cercare di ottenere quello che secondo me è l'obiettivo principale, cioè riqualificare quello che il personale oggi è occupato e che probabilmente anche a seguito di questa pandemia rischierà di perdere un posto di lavoro, ma può avere nuove competenze digitali sicuramente nel mercato green o comunque nei mercati in espansione per potersi rioccupare. Penso che questa debba essere una sfida quella delle politiche attive che tutti noi dobbiamo prendere in considerazione come obiettivo per il futuro e lo possiamo ottenere soprattutto grazie alle nuove competenze che ogni lavoratore può acquisire. Quindi è fondamentale che ci sia collaborazione e tenere a mente il mercato del lavoro come si evolve e soprattutto quello che noi possiamo mettere in campo per favorire la riconversione del personale. Quindi accorgo con grande piacere da parte della sottosegretaria questa assicurazione che il Governo mette oggi in campo. Grazie. Grazie onorevole Amitrano. Possiamo adesso all'interrogazione 506370 dell'onorevole Rizzetto. Prego. Sì, grazie Presidente. Buongiorno, sottosegretario. Non mi dilungo, nel senso che la questione IMPG mi pare sia una questione sia abbastanza conosciuta sia da questa commissione sia immagino dal Ministero del Lavoro. Chi tra i presenti faceva parte anche della scorsa legislatura, nello specifico in Commissione Lavoro, vedo la collega Polverini piuttosto che Siprini, sa che già IMPG all'epoca era stato oggetto di nostre richieste piuttosto che di interlocuzione sia nei confronti, voglio dire, di IMPS, vediamo come andrà a finire con IMPS, sia per quanto riguarda l'evidente oramai tracollo finanziario che, come ho scritto e descritto nella mia interrogazione, IMPS sta vivendo, mettendo evidentemente a rischio tutto quello che è una fase contributiva anche importante da parte di migliaia di lavoratori. Quindi vorrei ci desse delle rassicurazioni rispetto a quello che farà o evidentemente insomma non farà il governo, nello specifico il Ministro del Lavoro. Grazie. Prego, sottosegretario. Grazie Presidente, grazie onorevole interroganti. La complessa situazione economico-finanziaria dell'IMC è connessa a una crisi strutturale del settore editoriale che si prolunga da tempo. Come noto, l'equilibrio previdenziale dell'Istituto è stato pesantemente compromesso da tale crisi, contraddistinta dalla sensibile contrazione dei contratti di lavoro giornalistico e dal peso sempre crescente degli oneri per ammortizzatori sociali a carico dell'Istituto Medesimo. Inoltre la contrazione del gettito contributivo dovuta alla mancata assunzione di lavoratori dipendenti si è accompagnata a operazioni di esodo volte a permettere uscite anticipate dalle redazioni con accesso a pensionamento. Si rammenta che sono iscritti alla gestione sostitutiva dell'Associazione Generale Obbligatoria dell'Istituto i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente e che nell'ultimo anno tale gestione ha fatto registrare un saldo negativo pari a circa 242 milioni di euro. Per fare fronte alla grave per durante crisi di IMCI, il decreto legge 30 aprile 2019 numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2019 numero 58, ha stabilito l'obbligo per l'IMCI di adottare misure di riforma del proprio regime previdenziale volte ad equilibrio e a ripristino strutturale delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria dell'ente. È stato quindi previsto l'obbligo per l'Istituto di trasmettere ai ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che evidenzi la sostenibilità economico finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori nel mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico finanziaria della gestione previdenziale nel medio e lungo periodo. Il termine per trasmettere il citato bilancio tecnico è stato più volte modificato e differito. Da ultimo la legge di bilancio 2021 ha prorogato il predetto termine al 30 giugno 2021 ed ha parallelamente sospeso fino alla medesima data l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 509 del 30 giugno 1994, in tema di commissariamento delle gestioni previdenziali degli enti privatizzati che versino in condizioni di disavanzo economico finanziario. Il legislatore ha altresì previsto che qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, il governo adotti uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17,2 della legge 23 agosto 88 numero 400 dirette a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica le modalità di ampliamento della platea contributiva di IMCI. L'IMCI negli ultimi giorni di giugno ha trasmesso la delibera con la quale ha dato corso alle misure di intervento volte al ripristino delle condizioni di sostenibilità dell'ente corredate dal bilancio tecnico attuale al 31 dicembre 2020. Il provvedimento è attualmente in istruttoria da parte delle amministrazioni vigilanti. La complessa vicenda che coinvolge la competenza della presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro, dell'Economia e delle Finanze è stato oggetto di attenta a considerazione da parte del Governo che ha avviato in questi mesi le necessarie interlocuzioni al fine di individuare soluzioni il più possibile condivise. Come noto la questione in queste ore è anche all'attenzione del Parlamento nell'ambito dell'esame della legge di conversione del decreto legge cosiddetto sostegni bis. Anche sulla base delle determinazioni che il Parlamento intenderà assumere il Governo adotterà le necessarie e conseguenti iniziative nella consapevolezza che occorre tener conto della complessità della situazione e dei delicati equilibri coinvolti. Prego, nomevole Rizzetto. Sì, grazie. Grazie sottosegretario. Diciamo che mi rileggerò la risposta perché ho perso qualche passaggio, però non vedo ancora purtroppo una fase decisionale netta, precisa rispetto a questa situazione, capendone chiaramente le difficoltà che lei ha giustamente e virtuosamente illustrato, perché la situazione è molto complicata. Ricordo solo però sottosegretario che è soltanto dal 2009, Presidente, che l'ente riceve circa 20 milioni di euro per i prepensionamenti e che soltanto da quest'anno riceve addirittura il rimborso spese per gli ammortizzatori sociali e per gli incentivi tra l'altro all'occupazione. Quindi diciamo che questa coda non è secondo me propedeutica ad una soluzione positiva della cosa, anche perché ricordiamo che INPG non ha incassato per circa 65 anni da parte degli editori i contributi previdenziali. Ora, io mi sono fatto due conti. 65 anni di contributi previdenziali da parte degli editori, ad oggi quotano un miliardo che nessuno ha chiesto indietro. Un miliardo, voglio dire con un miliardo probabilmente avremmo tutti, cioè tutti avrebbero qualche soldo in cassa in più per poter comunque cercare di garantire, considerato che lei mi insegna siamo passati da una fase di da retributivo a misto piuttosto che contributivo, un minimo di sollievo e un orizzonte quantomeno abbastanza sicuro rispetto a questi professionisti. Per non citare poi voglio dire anche tutta l'area dei cosiddetti comunicatori che vorrebbero entrare, non entrare, non entro neanche voglio dire in quell'ambito lì perché sennò voglio dire dovremmo stare qui mezza giornata. In molti, più di qualcuno devo dire che io ho sentito anche in questi giorni chiedono ad esempio di transitare sotto l'alveo, sotto l'ala protrettrice di IMSS. Io non lo so però vede se questa potrebbe essere una soluzione, voglio dire oggi interessante, è considerato quello che sta vivendo IMSS, è considerato quello che sta vivendo IMSS. Quindi secondo me, come ricordavano i nostri interventi antenati, in medio stat virtus, ovvero una soluzione intermedia che però a questo punto deve essere trovata, perché più andiamo avanti, cioè ogni giorno i dati dicono, vado a citarli, che oltre al passivo di 242 milioni di euro, 242 milioni di euro, c'è una perdita giornaliera di 665 mila euro ed una riserva tecnica che non copre nei prossimi due anni. Quindi nei prossimi 24 mesi non c'è una riserva tecnica, entro, diciamo, o dopo i prossimi 24 mesi. Quindi la situazione è abbastanza difficoltosa, no? E quindi ogni giorno che noi aspettiamo in più per scegliere e per trovare, magari assieme chiaramente al Parlamento, se qualora fosse, voglio dire, gradito questo aiuto, una soluzione, ogni giorno che passa arrivano, voglio dire, sul groppone centinaia di migliaia di euro. Quindi io ritengo che serva fare veramente un passo incisivo. Capisco, conosco e apprezzo la sua buona fede e la sua volontà nel poter portare al Ministero del Lavoro, piuttosto che su altri tavoli, questa che potrebbe diventare addirittura una delle vicende e vertenze forse più pesanti della nostra storia repubblicana, considerato anche la molle di lavoratori che effettivamente sono coinvolti. E quindi la ringrazio per la risposta, ritengo che lei sia persona adatta per poter seguire questa vicenda e noi sicuramente insomma lo faremo, però lo rinnovo, serve una soluzione abbastanza rapida per come la vedo io. Grazie. Grazie onorevole Rizzetto. Passiamo adesso all'ultima interrogazione, quella dell'onorevole Cantone, la 506371. Prego, onorevole Cantone. Sì, grazie, grazie Presidente. Buongiorno Sottosegretario. Allora, i 152 lavoratori delle storiche imprese dell'Abrianza, la Giannetti Ruote, ora Giannetti Fedwells, di proprietà del fondo Quantum Capital Partner. Sabato 3 luglio 2021, al termine del turno, hanno ricevuto via mail la comunicazione della via dalla procedura di licenziamento collettivo e dalle ferie forzate fino alla chiusura definitiva del sito di Cenano Laghetto. La decisione ha colto i lavoratori, a dir poco di sorpresa, anche tenuto conto che molti di loro erano impegnati in turni straordinari, in attività di manutenzione e prestazioni che appaiono non coerenti con la decisione di chiudere l'azienda, naturalmente. La Giannetti Ruote è una fabbrica che d'oltre un secolo produce ruote e cerchioni per marchi internazionali tra le quali l'Iveco e insomma molte altre. La scelta è dalla società associata ad Asso Lombarda, motivata dalla proprietà con riferimento a una crisi perdurante dallo stabilimento, gravata se nei mesi della pandemia, risulta in peso e contrasto con la lettera delle finalità di recente avviso comune, sottoscritto dal Presidente del Consiglio e Ministro del Lavoro e dalle politiche sociali, CGL e CSU, Confindustria, Alleanze Cooperative, Confate, in cui le parti tutte si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa dei licenziamenti. Nell'ultime ore l'amministratore delegato della società si è rifiutato di incontrare anche i sindaci, i sindaci di Cerviano Laghetto e Cogliate, che si erano presentati al presidio dei lavoratori, non solo i sindaci, tutte le forze politiche sono andate a quel presidio davanti alla fabbrica, né tantomeno è stata accorta alcuna richiesta di incontro con il lavoratore di loro rappresentanti sindacali in azienda, almeno quali in azienda, come di solito avviene a finito. Le segreterie nazionali di FIOM e WIEN hanno chiesto unitariamente un incontro immediato con i ministri interrogati e con la partecipazione di Asso Lombarda per scongiurare la chiusura dello stabilimento per garantire la salvaguarda i posti di lavoro. Allora, quali, e chiudo, questa è la domanda, quali urgenti iniziative di competenza il governo intende adottare affinché la proprietà della Giannetti receda dalla decisione della chiusura dello stabilimento di Cerviano Laghetto, anche convocando un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, la proprietà, tutte le associazioni anche delle imprese interessate, al fine di far rispettare contenuti del citato avviso comune sottoscritto ai massimi livelli in sede governativa. Grazie, non avevo le cantone. Prego, sottosanitario. Sì, Presidente, grazie, onorevole interrogante. Allora, in merito all'interrogazione, in esame la Regione Lombardia, espressamente interpellata, ha comunicato che la società operante nel settore industria metalmeccanica con stabilimenti produttivi a Ceriano Laghetto e Carpenedolo ha avviato il 3 luglio ultimo scorso una procedura di licenziamento collettivo derivante dalla decisione di chiudere definitivamente le attività presso lo stabilimento di Ceriano Laghetto, con conseguenti 152 esuberi. I due stabilimenti hanno mantenuto le proprie caratteristiche produttive, più precisamente nello stabilimento di Ceriano Laghetto vengono prodotte ruote in acciaio per il settore automotive on-road, ruote per veicoli commerciali, camion, bus e rimorchi. I principali clienti sono nel segmento dei veicoli commerciali, quali Volvo Group e MAN. Lo stabilimento di Ceriano Laghetto, secondo quanto riferito dalla Regione Lombardia, nonostante importanti investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, non ha mai generato utili per vari fattori, tra cui i prezzi d'acquisto delle ruote in acciaio. In questa situazione di grave sofferenza si è innestata la crisi dovuta alla pandemia Covid, che ha comportato per la divisione di Ceriano Laghetto una rilevantissima contrazione del fatturato, affrontata attraverso il ricorso diffuso alla Cassa Integrazione Covid. In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, posso dire che le particolari improvvise modalità con cui è stata avviata la procedura di licenziamento hanno destato allarme e tensione sociale. La Regione Lombardia si è immediatamente attivata per avviare le necessarie interlocuzioni con le parti, al fine di scongiurare gli effetti traumatici di questa procedura. È stata fissata per domani 8 luglio un'audizione in Quarta Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale e l'azienda è stata convocata dalla Regione per un primo incontro di chiarimento da effettuarsi in tempi brevissimi. Segnalo altresì che è in corso un accertamento da parte dell'Ispettorato Territoriale di Lavoro di Milano, l'ODI, avente ad oggetto la verifica del rispetto della normativa in materia di rada di lavoro, ma anche l'eventuale fruizione di ammortizzatori sociali. Ciò premesso, gli esiti degli accertamenti saranno attentamente monitorati dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Ministero che rappresenti, in ordine alle questioni evidenziate, anche al fine di una tutela sostanziale ai lavoratori interessati. Faccio presente che con tali comportamenti si tradisce la razza dell'accordo concluso la scorsa settimana tra governo e parti sociali. Ricordo che in quella sede, nel segno di una Comune condivisa responsabilità, le parti sociali si sono impegnate a raccomandare in alternativa la risoluzione dei rapporti di lavoro, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente, dal decreto legge appena varato in materia di lavoro, al fine di garantire il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti. Contestualmente è stato assunto l'impegno del Governo ad una rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali e all'avvio delle politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua, che consentiranno di sostenere efficacemente la ripresa economica già avviata. Prego, onorevole Cantone. Sì, grazie sottosegretario. Guardi, a me va bene il fatto che la Regione Lombardia convochi le parti, fa il suo dovere, quindi è sicuramente importante questo e ha un suo percorso, però quello che a me interessa, visto questa audizione, che è la questione che abbiamo posto al Governo nazionale, è quello di far rispettare l'accordo che abbiamo appena fatto, questo è il primo banco di prova, abbiamo appena fatto un accordo per bloccare i licenziamenti e trovare un percorso diverso e improvvisamente ci troviamo di fronte a dei licenziamenti, quindi va benissimo il ragionamento preciso che lei sottosegretario ha fatto, però va bene, insisto, l'incontro con la Regione Lombardia, però io penso che il Governo debba intervenire sulla Regione Lombardia prima di domani per dire, guardate, c'è questa intesa, ponete anche a voi il problema per farlo rispettare, questo lei lo può fare come sottosegretario, contemporaneamente avviare il tavolo perché i lavoratori non possono subire la prepotenza dall'azienda, questi licenziamenti vanno bloccati in attesa di trovare una soluzione condivisa fra tutte le parti, grazie. Grazie all'onorevole Cantone, dichiaro così concluso lo svolgimento delle interrogazioni e una risposta immediata all'ordine del giorno.